Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della guerra delle guerre. Oh, pensano entrambe. EOS R o 5D Mark IV? Secondo me un piccolo confronto tra queste due bestioline ci voleva. Perché sono sorelle non gemelle, ma sono sorelle perché hanno lo stesso cuore. O meglio, spieghiamoci, lo stesso sensore. Ma sono due famiglie completamente differenti. Una è reflex, l'altra invece è mirrorless. Cosa significa? In termini tecnici dovrebbe semplicemente essere che lei non ha lo specchio. Quindi il pentaprisma, mentre lei ha il pentaprisma. E questa dovrebbe essere più leggera e questa più pesante. Ma a conti fatti è vero? Sì e no. Allora, ho praticamente lo stesso setup su entrambe le camere. Ossia 24-105mm f4 e 24-105mm f4 serie R naturalmente. Partiamo dalla prima differenza, quella che è il peso. Il peso, tenendola in mano, entrambe la 5D Mark IV è notevolmente più pesante. Ma la EOS R con tutta la lente comunque non scherza assolutamente. Sono comunque dei corpi che si fanno sentire parecchio in mano. Dopo un po' di tempo di utilizzo, naturalmente, è naturale che entrambe le macchine diventino molto ma molto più pesanti. Possono stancare il braccio. Ma un fotografo o un videomaker lo sa benissimo. Quindi si tende a scegliere il sistema mirrorless o si è puntati verso il sistema mirrorless semplicemente perché queste due, perché il sistema mirrorless è più leggero. Ma nel caso della EOS R vi assicuro che non cambia pochissimo. Ora, parliamo, abbiamo detto che il sensore è lo stesso, ma cosa cambia realmente? Allora, prima di tutto, abbiamo sulla 5D uno schermo da 3,2 pollici, non ribaltabile, quindi fisso. Mentre dall'altro lato abbiamo uno schermo da 3,1 pollice, quindi un pochino più piccolo, ma completamente articolabile. Ora non ce la faccio con la manina, sì, ma è completamente articolabile. Si può girare e utilizzare anche in vlogging mode, come dicono in tanti. Perdiamo il controllo joystick, abbiamo un ottimo touch su entrambi gli schermi. Probabilmente sulla R è un pochino più comodo perché avendo lo schermo che possiamo girarlo e flipparlo abbiamo un controllo più veloce del menu. Il menu che rimane è quello semplice di casa Canon, quindi molto intuitivo, molto veloce e molto pratico. Perdiamo, come dicevo, il joystick, perdiamo la rotellina qui sotto e torniamo alla vecchia pulsantiera. Abbiamo tasti funzione naturalmente in meno perché qua andiamo un pochino più sul minimalismo. Sopra invece abbiamo molti meno pulsanti. Abbiamo uno schermo al negativo di qua, invece uno schermo LCD classico dall'altro lato. Non abbiamo la ghiera di controllo che abbiamo sulla 5D Mark IV. Qui non ce l'abbiamo per il controllo delle modalità perché qui abbiamo un semplice pulsantino che cliccandolo ci farà passare da funzione a funzione. Più comodo, meno comodo, diciamo che probabilmente la ghiera così è un pochino più comoda perché è più riconoscibile a vista la funzione che si vuole. Qui invece bisogna cliccare per andare o cliccare e cliccare finché non si arriva alla modalità voluta oppure andarlo a scegliere dal touchscreen. Ma se premiamo per sbaglio per questo pulsante che abbiamo modalità, sì assolutamente ed è per questo che mentre qui c'è il pulsantino che dobbiamo premere per poter girare la ghiera, mi sta venendo mal di schiena a tenerle in mano tutte e due, da quest'altro lato invece abbiamo un pulsantino che si chiama lock per bloccare le impostazioni. Pulsante di registrazione video, beh qua c'è una bella lotta perché la 5D Mark IV ce l'ha nella posizione più comoda, ossia quella raggiungibile facilmente dal pollice, in questa posizione dove il pollice è a sede, la sede del pollice, subito sulla sinistra abbiamo il pulsantino. Mentre per la 5D, per la iOS R scusatemi, abbiamo invece accanto al pulsante di scatto, un pochino più dietro al pulsante di registrazione, ma faccio un po' più di fatica a dover utilizzarlo, a premerlo, semplicemente perché è in una posizione un pochino più scomoda. Perché praticamente da posizione di scatto io devo fare questo gioco qua, è un pochino più scomodo rispetto ad averlo qui dietro. Ma dietro abbiamo questa nuova funzione, questa nuova ghiera completamente personalizzabile. E altra grande differenza sta naturalmente nelle nuove ottiche che hanno questo anello aggiuntivo che troviamo sulla parte superiore e che è completamente personalizzabile da menu e possiamo completamente decidere quale tipologia di funzione andare a fargli comandare. Molto comodo perché normalmente un fotografo ha sempre la mano sotto al corpo macchina, ha sempre comunque due dita vicino alle chiere del fuoco e dello zoom. In questo caso invece ha anche le dita vicino a quest'altra ghiera completamente personalizzabile che fa il rumore. Si sente che fa un bello scattino molto 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 interessante. Batterie sono praticamente le stesse. La differenza da far notare è questa qui. EOS R porta un solo slot per SD o HS2 se non vado errato. Sì. Mentre da quest'altro lato abbiamo uno slot per l'SD e un altro invece per le Compact Flash. Compact Flash che probabilmente hanno concluso la loro vita. probabilmente perché non ne stiamo vedendo più su corpi macchina. Ci sono le C-Fast 2 oggi e le SD. Purtroppo oltre questo probabilmente le Compact Flash hanno esaurito il loro corso di vita. Molto probabilmente. Altri grandi differenze le troviamo sui punti di messa a fuoco. Ne abbiamo 61 sulla 5D Mark IV. Mentre qua abbiamo un autofocus ad aria con oltre 5.000 punti di messa a fuoco di posizioni selezionabili. Almeno così parla il sito ufficiale di Casa Canon. Quando fa la differenza tra i due sistemi di messa a fuoco parla di 21 punti di messa a fuoco. Da 61 a 21 punti di messa a fuoco a croce. Mentre di quale parla di 5.000 selezionabili. Mettono a fuoco entrambe in una maniera fantastica. Grazie al sistema Dual Pixel Autofocus che ritroviamo anche nella modalità video. Quindi non entro troppo nel dettaglio. Sono due macchine perfette. Per me sono due macchine gemelle. Ossia utilizzare una, utilizzare l'altra non fa alcuna differenza. Cambia soltanto il sistema. Ma che una è Reflex e l'altra è Mirrorless. Per me sono due grandi macchine. Altra differenza ed è più una novità che una differenza. No, è una differenza perché non è una novità. È che 5D Mark IV registra in camera full HD fino a 50 fotogrammi al secondo o 60. 1280x720 quindi in HD fino a 100 o 120 fotogrammi al secondo. E 4K 10 bit in foto JPEG come compressione all'interno della macchina. Una compressione molto ma molto pesante che mantiene molti dettagli. Infatti 10 bit in camera. Io ci ho lavorato poche volte con questo formato proprio perché è molto ma molto pesante ed ingestibile da parte dei software di NLA. Infatti io quello che consiglio quando nel caso ho girato, abbiamo girato con la 5D in 4K abbiamo dovuto lavorare per forza di proxy. Mentre con i RAW della C200 non lavoriamo di proxy. Con questi file della 5D abbiamo dovuto perché la compressione che viene utilizzata è la foto JPEG ed è molto ma molto pesante. Mentre Canon EOS R registra in 4K 8 bit interno quindi in Ultra HD. Full HD fino a 50 fotogrammi al secondo. Mentre come per la sorellina minore registra a 1280x720 a 100 o 120 fotogrammi al secondo. Come detto anche nel video che ho dedicato all'EOS R questa per me è una grande stupidaggine. Semplicemente perché molti competitor, tutti i competitor registrano i 100 fotogrammi al secondo o 120 in full HD. Perché si sono ostinati a fare i 100 fotogrammi in HD o HD ready come lo chiamavano in 1280x720. Questo non lo sapremo mai. Io purtroppo non lo potrò utilizzare. Non l'ho potuto utilizzare. Non lo utilizzavamo sulla 5D. Abbiamo la giacca 5, la 7.3 e la Z6 che li faranno. Quindi come per la 5D Mark IV in registrazione 4K il sensore viene, l'immagine viene croppata di 1,6 quindi è come avere una PSC in mano. Accade la stessa cosa con la Canon EOS R. Mentre questa cosa non avviene per entrambe quando si registra in full HD. Unica differenza veramente da far notare è il fatto che sull'uscita HDMI la Canon EOS R ha un'uscita pulita in Ultra HD 10 bit non compresso. Quindi ci permette di montare un registratore esterno, adesso faccio un esempio un ninja o un inferno, e poter registrare un segnale non compresso o addirittura poter registrare un file a 10 bit esternamente. Ma quindi rispetto alla 5D Mark IV abbiamo bisogno di un accessorio esterno per la registrazione a 10 bit. Ma probabilmente quel file sarà più gestibile rispetto a quello della 5D Mark IV. Punti di vista andrebbero provate. Queste sono sostanzialmente le grandi differenze. Ora, io consiglio l'upgrade. Probabilmente non è ancora il momento. La Canon EOS R è la prima nata di questa grande famiglia di Canon, quella seglata dalla sigla R. Perché la differenza tra le due è anche l'innesto. Una porta l'innesto R e l'altra invece l'innesto più vecchiotto è F. L'innesto in questo momento è quello che fa la differenza. Non perché le ottiche F non siano compatibili con tutta la famiglia R, ma perché noi abbiamo l'adattatore a disposizione nei bundle. Ma semplicemente perché nel futuro probabilmente Canon punterà alla produzione, alla creazione di più lenti per mirrorless. Dato che si vede che il futuro è proprio quello, quindi si punteranno tanto verso le camere mirrorless e penso che punteranno molto meno sulle camere reflex. Anche se penso che delle ammiraglie comunque rimarranno. Perché comunque sono molto ma molto apprezzate da tutta una fascia di professionisti. Consiglio l'upgrade dalla 5D Mark IV alla Canon EOS R? Probabilmente no. Se volete invece avete bisogno del secondo corpo macchina. Avete come primo corpo macchina una 5D Mark IV. EOS R è la validissima alternativa per averle entrambe. Perché vi assicuro sono due camere davvero fantastiche. E sono gemelle perché hanno lo stesso sensore. Non proprio gemelle. Però sono gemelle un po' uscite diverse e storte. E comunque è da notare che la EOS R è comunque più leggera della 5D Mark IV. Che comunque risulta essere una camera abbastanza pesante. Insomma siamo giunti alla conclusione di questo breve confronto. Vi ho dato le mie considerazioni. Vi ho detto quali sono le differenze. Io cosa preferirei? Beh se dovessi comprare oggi una camera probabilmente comprare la EOS R. Semplicemente perché è una mirrorless e si punterà sempre di più con la direzione. Ma da possessori di 5D Mark IV, perché ne abbiamo qualcuna in ufficio e che utilizziamo per lavorare. Comprerei una EOS R come seconda camera da affiancare tranquillamente. E probabilmente la prenderemo una EOS R da affiancare tranquillamente. Anche perché la cosa più bella è lo schermino imbaltabile. L'ho apprezzato tantissimo e mi è mancato tantissimo da quando ho lasciato la Canon 80D. Sono passato da Sony e ora finalmente lo ritrovo grazie alla GH5. E per ora finché la tengo in mano alla EOS R. Insomma ragazzi siamo giunti alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Venite a trovarmi anche su tutti gli altri social. Insomma cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.